va ora in onda radio speranza notizie a cura della redazione giornalistica un cordiale saluto a tutti da massimiliano spiriticchio al microfono natascia la parte tecnica e da tutti noi di radio speranza in blu la radio della chiesa metropolitana di pescara penne l'associazione carrozzine determinate in una lettera aperta chiede al presidente della regione d'alfonso e agli assessori a politiche sociali e sanità di rinviare la scadenza per presentare la domanda per i progetti di vita indipendente legati alla legge regionale del 2012 anche a livello nazionale stiamo assistendo al caos che regna sull'entrata in vigore dei nuovi modelli ISEE si legge esistono motivi tecnici si spiega per cui ad oggi non possono ancora essere rilasciati i nuovi attestati ISEE anche nell'ipotesi in cui alcuni CAF riuscissero nei prossimi giorni ad essere operativi saranno presi d'assalto dagli utenti e si creeranno numerosi ingorghi il rapporto nazionale pesticidi nelle acque dati 2011-2012 edizione 2014 dell'istituto superiore per la ricerca e la protezione dell'ambiente parla chiaro le acque di falda e i fiumi in Italia contengono importanti quantità di pesticidi l'Abruzzo non fa eccezione, l'Arta risulta aver cercato 53 molecole rispetto alle 400 sostanze impiegate attualmente in agricoltura nel 25% dei corsi d'acqua e nel 22,5% delle acque sotterranee sono stati rinvenuti i pesticidi superamenti dei limiti di legge sono stati riscontrati nel 5,8% dei campioni per le acque sotterranee lo dice il forum abruzzese dei movimenti per l'acqua un bilancio dal quale emerge con chiarezza la solidità degli equilibri economici e finanziari attraverso i quali poter guardare con fiducia il futuro del nostro Ateneo che all'interno del panorama italiano segnato in questi ultimi anni da un calo delle immatricolazioni ha fatto registrare una sostanziale tenuta con ad oggi più di 6.400 matricole e questo il bilancio tratteggiato dal Rettore Carmine Dilio che a Chieti è inaugurato l'anno accademico 2014-2015 dell'Università d'Annunzio Chieti-Pescara Sindacati assenti all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Chieti per rappresentare, dicono, un dissenso politico sindacale rispetto alla governance cioè all'amministrazione dell'Ateneo nei termini in cui viene condotta dal Rettore e dal Direttore Generale i sindacati ricordano il contratto integrativo del febbraio scorso ed accusano il Direttore di aver preso a picconate le risorse economiche di tutto il personale tecnico-amministrativo non docente critici anche diversi studenti che hanno diffuso un volantino dal titolo Cerebrazione dell'Università nella quale, fra l'altro, scrivono in questo sistema soprattutto non abbiamo spazio per ragionare insieme e non abbiamo tempo per farlo Opere di dragaggio del porto di Pescara entro 15 giorni per prelevare 30.000 m3 di sedimenti ed entro aprile inizio dei lavori per realizzare una prima vasca di colmata nel porto di Ortona con la previsione di un ulteriore dragaggio di 100.000 m3 da trasferire dal porto di Pescara a quello ortonese quindi entro fine marzo è previsto l'avvio della progettazione dei lavori di una banchina all'altezza dell'allagamento della Madonnina a porto di Pescara con funzione di colmata e entro giugno sarà disponibile la progettazione dell'opera definitiva Montesilvano Democratica ha chiesto un impegno politico concreto all'amministrazione Maragno abbassare gli stipendi di sindaco, assessori e consiglieri per alimentare un fondo di solidarietà sociale secondo il primo cittadino Montesilvano rischia il predissesto finanziario e questa condizione di precarietà se verificata comporterebbe tagli pesanti ai servizi sociali ciò nonostante la nostra proposta grazie alla quale si sarebbero risparmiati 1.600.000 euro è stata ritenuta tecnicamente inammissibile dalla Giunta lo sostiene il capogruppo in consiglio comunale di Montesilvano Democratica Lino Ruggero si terrà oggi alle 18 nella sala dei marmi della provincia di Pescara il convegno non più schiavi ma fratelli in preparazione alla marcia per la pace di sabato interverranno Don Maurizio Patriciello parroco al quartiere Parco Verde in Caivano raccontando il Vangelo della Terra dei Fuochi Raffaele Bonanni già segretario generale della CISL Massimo Pallottino dell'area internazionale di Caritas italiana John Palizza l'uomo del Congo che cammina per la pace il quale interverrà sul tema Uno sguardo sul mondo schiavi della guerra Suor Maria del Rosario Bolanos Medina Suor Oblata del Santissimo Redentore e Suor Cellenza Monsignor Tommaso Valentinetti Arcivescovo di Pescara Penni Padre che tutti siano una cosa sola con questo spirito continua la preghiera per l'unità dei cristiani domani alle 19 l'arciprete rumeno Alin Iarca guida spirituale dei rumeni residenti in Diocesi guiderà il Vespro Ortadosso nella chiesa di Gesù Maestro a Pescara in piazza Luigi Rizzo Decima edizione per la marcia per la pace a Pescara non più schiavi ma fratelli il tema offerto da Papa Francesco nella giornata per la pace 2015 che darà il là all'appuntamento locale previsto proprio sabato alle 19.30 il luogo dell'incontro la centralissima piazza Salotto di Pescara perché la manifestazione possa davvero essere un grido all'unisono contro ogni forma di schiavitù e a promozione del confronto fraterno scrive in una nota l'arci di Ocesi di Pescara Penni la marcia sarà trasmessa in diretta da Radio Speranza Sarà il presidente della regione Abruzzo ad Alfonso ad aprire domani alle 9 a Pescara nel palazzo della provincia la serie di incontri con i cittadini programmati per attivare un centro d'ascolto dei problemi e dei bisogni provenienti dal territorio gli altri incontri si terranno in contemporanea nelle sedi provinciali dell'Aquila, Teramo e Chieti e vedranno la partecipazione di assessori e direttori regionali consiglieri regionali di maggioranza manager pubblici domani alle 18 all'auditorium Petruzzi del Museo delle Genti d'Abruzzo di Pescara sarà presentato il CD Abruzzo 6 le prime registrazioni di Don Nicola Iobbi a Cerqueto del Fondo Leidi all'incontro parteciperanno Francesco Tentarelli responsabile dell'ufficio sovrintendenza ai beni librari e biblioteche della regione Abruzzo Adriana Gandolfi antropologa del comitato scientifico del Museo delle Genti d'Abruzzo Giovanni Agresti linguista dell'Università di Teramo Gianfranco Spitilli antropologo dell'Università del Molise curatore introduce e modera Ermanno De Pompeis direttore del Museo delle Genti d'Abruzzo e in avvicinamento alla giornata della memoria si terrà la conferenza di Marco Patricelli su Witold Pileczki il volontario che rivelò al mondo l'orrore di Auschwitz al palazzo della provincia di Pescara nella sala La Figlia di Iorio appuntamento previsto per sabato alle 17.30 ed era l'ultima notizia adesso però vediamo insieme le previsioni del tempo stasera su Pescara e Provincia si prevedono cielo coperto nelle prime ore della serata e pioggia nel resto della serata con temperature da 8 a 9 gradi e venti deboli domani si prevede pioggia con temperature da 7 a 9 gradi nelle zone interne e da 8 a 12 gradi sulla costa i venti domani sono previsti moderati il mare è previsto da poco mosso a mosso stasera e da mosso a molto mosso domani ed è davvero tutto per questa edizione del nostro notiziario da Massimiliano Spiriticchio al microfono Natascia alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in Blu la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne grazie per averci seguito e a risentirci Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie a cura della redazione giornalistica